Il Vescovo Giovanni Nerbini celebra la via Crucis per i detenuti della Dogaia e per i malati del Santo Stefano. Un gesto di conforto in vista della Pasqua. Da Prato l'omaggio a David Sassoli, è stato un padre rifondatore della nostra Europa, la sua eredità politica non vada dispersa. Ennesimo incidente, GIP in bilico fra strada e Scarpata, chiusa stamani per due ore la SR325. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. La via Crucis per i detenuti e i malati. Durante la settimana santa, il Vescovo Giovanni Nerbini ha scelto di celebrare uno dei tradizionali riti in preparazione alla Pasqua al carcere della Dogaia e all'ospedale Santo Stefano come segno di speranza. Ce ne parla Giacomo Cocchi. La croce al carcere della Dogaia e all'ospedale Santo Stefano. Due luoghi periferici e di sofferenza vivranno insieme al Vescovo Giovanni Nerbini la Passione di Cristo in attesa della resurrezione di Pasqua. È un segno di speranza che intendiamo rinnovare con i detenuti e i malati, persone che attendono di poter superare la loro condizione per tornare alla vita, spiega Monsignor Nerbini. Lunedì 3 aprile è in programma il rito della via Crucis alla casa circondariale della Dogaia. Insieme al cappellano Donenzo Pacini, il Vescovo toccherà le stazioni sistemate all'esterno, lungo i muri perimetrali del carcere. I detenuti potranno seguire la celebrazione, affacciati alle finestre delle loro celle. All'iniziativa sono stati coinvolti i volontari, i catechisti e i membri del gruppo Barnaba, che svolgono servizio in carcere in collaborazione con Donenzo. Il Vescovo tornerà alla Dogaia la domenica di Pasqua per celebrare la prima messa del giorno alle ore 8.30 per i detenuti. Il venerdì santo, come avviene ormai dal primo anno della pandemia, il Vescovo Giovanni guiderà la via Crucis all'ospedale Santo Stefano. Alle 15.30 la croce percorrerà il perimetro esterno del nosocomio, con le stazioni curate dalla cappellania ospedaliera guidata da Don Carlo Bergamaschi e dalle associazioni impegnate nell'ambito sanitario. L'idea, nata durante il Covid, è stata apprezzata fin da subito dai degenti del Santo Stefano, dal personale sanitario, ma anche dalla città. La funzione sarà trasmessa in diretta su TV Prato, nell'ambito della trasmissione Sotto la sua croce, condotta dal direttore Gianni Rossi. In studio ci sarà Suore Elena Zanardi. Ieri sera in San Domenico, la serata evento in memoria di David Sassoli, ex Presidente del Parlamento europeo, scomparso all'inizio del 2022. Tanti i pratesi presenti, comuni cittadini e istituzioni, per rendere omaggio al giornalista e politico che era molto legato a Prato. Tre gli ospiti speciali, tra cui la Vice Presidente del Parlamento europeo, Pina Picerno. L'eredità politica e umana di Sassoli non vada dispersa, al messaggio lanciato. Il coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d'audacia. Era quello richiesto all'Europa, secondo David Sassoli, e invocato nel suo discorso di insediamento alla guida del Parlamento europeo nel 2019. Un'Europa alle prese con disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali. Allora e ancora di più oggi, quattro anni più tardi, dopo una pandemia mondiale e una guerra che non sembra conoscere fine. Ed è proprio la saggezza e l'audacia, il titolo scelto da Claudio Sardo per il suo libro, che racchiude discorsi, interviste e interventi del Presidente Sassoli, vero uomo delle istituzioni, scomparso nel gennaio 2022, ma che resta un faro per la politica nazionale ed europea. La sua grandezza umana, morale e professionale è stata ricordata ieri sera nel complesso di San Domenico, in occasione della presentazione del volume di Sardo, a cui hanno preso parte anche la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e Francesco Saverio Garofani, consigliere del Presidente della Repubblica. L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione Punto d'Incontro e moderato dal direttore di TV Prato Gianni Rossi. Ricordarlo è giusto, ma possiamo limitarci a ricordare David o ciascuno di noi, individualmente e poi insieme. Non deve porsi il tema di come l'eredità di Davide trova una continuità di impegno. Penso che lo facciamo con personaggi che a vario titolo hanno incrociato Davide nella sua vita, lo facciamo a Prato, a cui Davide era molto legato, lo facciamo in un ambiente della Chiesa, perché questo è l'ambiente in cui Davide era nato, credo che sia la serata giusta per provare a cominciare a rispondere. Tanti presenti per rendere omaggio alla memoria di Sassoli a poco più di un anno dalla sua morte, in una città che custodisce gelosamente un forte legame con l'ex giornalista e politico. La madre di Sassoli era infatti di Prato ed è qui che da bambino David ha trascorso tanti stati. È stato un padre rifondatore della nostra Europa, sottolineato con forza all'onorevole Picerno, mentre Garofani ha ribadito più volte la necessità che l'eredità politica e umana di Sassoli, animata da una forte impronta cristiana, non vada dispersa. La strada che ha percorso Davide è fatta essenzialmente da tre cose. Centralità del Parlamento, difesa dell'autonomia del Parlamento, la seconda è la difesa di chi guarda l'Europa con gli occhi della fiducia, quelle persone che fuggono da guerra, dalla disperazione, dalla fame, che cercano di arrivare nel nostro continente perché in cerca di speranza. E la terza questione riguarda la difesa dello Stato di diritto. Naturalmente Davide è stato un leader europeo e dopo la sua morte, l'emozione che ha suscitato, molti si sono accorti che era cresciuto nel nostro paese una personalità di livello europeo, ma qui ci sono dei valori che vengono dalla sua radice cattolico-democratica e cristiano-sociale e che sono stati spesi in un campo democratico più ampio in cui Davide è diventato un protagonista, non solo in Italia, ecco, anche in Europa molti lo hanno pianto e rimpianto. Le parole che il Presidente ha usato nella prefazione ricordano questo, ricordano diciamo prima di tutto l'umanità di Davide, il suo impegno, la sua passione, la sua generosità, la sua capacità di parlare anche ai più giovani, che è un patrimonio che resta e che rimane di grande attualità. La cronaca dopo il sinistro del tardo pomeriggio di ieri alla foresta, che già aveva creato notevoli disagi ai pendolari della vallata, anche stamani la SR325 è stata teatro di un incidente che ne ha comportato la chiusura. Attorno alle 7.30 nel tratto fra le località della Cartaia e Camino si sono scontrate una Fiat 500 e una Jeep. Quest'ultima in seguito all'urto è pericolosamente rimasta in bilico, sul muretto che separa la carreggiata e una profonda scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, inviati dal 118, fra cui l'automedica e un'ambulanza della pubblica assistenza. Due i feriti. I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di recupero con un autogru del fuoristrada. La SR325 è stata poi riaperta a senso unico alternato attorno alle ore 9. Alle 10, completate le operazioni di rimozione dei veicoli e di messa in sicurezza, è stata riaperta in entrambe le direzioni. L'opposizione ha depositato la richiesta per la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario sul tema dell'ospedale del pronto soccorso. La richiesta, promossa da Fratelli d'Italia e sottoscritta da Movimento 5 Stelle, Lega, Centrodestra e Prato al Centro, è stata avanzata per affrontare le problematiche del Santo Stefano e del punto di primo soccorso. Un atto dovuto dopo tutte le battaglie di Fratelli d'Italia che è già iniziato a gennaio di quest'anno, vedendo la situazione con un sopralluogo del pronto soccorso che davvero era disastrosa. E quindi siamo arrivati a presentare un ordine del giorno ben due mesi fa che ancora il Consiglio Comunale non ha discusso perché la maggioranza non l'ha messo in discussione. E ci siamo trovati di fronte, dopo altre segnalazioni, altri fatti ai dottori che si sono dimessi, che vogliono essere trasferiti alla riforma del 118, a presentare ieri un atto firmato da tutta l'opposizione, da tutto il centrodestra e anche dai 5 Stelle per la richiesta di un Consiglio straordinario che si occuperà di questi argomenti. Anche in base al sopralluogo che avete effettuato nelle scorse settimane, quali sono i problemi maggiori che avete riscontrato? Abbiamo trovato circa 80 persone ammucchiate in spazi insufficienti per il pronto soccorso visto che è un ospedale nuovo costruito appena 12 anni fa e con mancanza di spazi in previsione di creare una nuova palazzina perché chi l'ha progettato si è accorto che questo ospedale è insufficiente per la città. E quindi noi siamo qui a dar voce ai tanti cittadini, a tutti quelli che vogliono e credano in una sanità di qualità ed essenziale per la nostra città. E quindi portare all'attenzione del Consiglio Comunale in discussione il tema è di vitale importanza per tutti. I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti ieri sera intorno all'evento in via Venezia a Montemurlo. In corso c'era infatti un incendio all'interno di una sfilacciatura scaturito da un macchinario tessile. Ad affiancare il comando pratese anche uomini e mezzi del distaccamento di Montemurlo e di quello volontario di Vaiano. L'intervento tempestivo ha evitato che le fiamme si propagassero al materiale presente nel capannone e alle attività limitrofe. Sul posto anche i carabinieri di Montemurlo e la polizia municipale e locale. In fase di accertamento le cause dell'incendio. L'immobile, dopo la conclusione dell'intervento in nottata, è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso. Voltiamo pagina. Anche il CGFS ha partecipato a Parigi alla riunione del progetto europeo SWOST che vuole promuovere lo sport senza stereotipi di genere. Adesso saranno organizzati incontri sul territorio provinciale per sensibilizzare le società sportive sul tema e promuovere buone pratiche da portare all'attenzione della UEFA Foundation for Children. Promuovere lo sport senza stereotipi di genere è il progetto europeo che il CGFS sta portando avanti assieme a partner di rilievo, fra i quali la UEFA Foundation for Children, le università finlandesi, turche, di Belgrado, del Montenegro, di Verona e di Bruxelles, solo per citarne alcuni. Il progetto nasce dal percorso effettuato in precedenza, sempre in ambito europeo, con SWOST, allenamenti senza stereotipi di genere. Cammino concluso a ottobre 2021 con un convegno internazionale a Prato alla presenza di oltre 150 partecipanti italiani e stranieri. Adesso il CGFS, assieme ai partner europei, vuole entrare ancora di più nel merito della questione di genere in ambito sportivo, un percorso che ha visto una riunione collettiva nei giorni scorsi in Francia. Si è svolto a Parigi, presso l'Università di Sergis, un meeting internazionale. Il partenariato ha definito le caratteristiche dello strumento che il progetto europeo vuole mettere in campo. Si tratta di uno strumento di autovalutazione da destinare alle associazioni sportive dei vari territori europei, che ha l'obiettivo di monitorare e di mappare quello che è lo stato dell'arte messo in atto dall'associazione sportiva, quindi nei vari processi e nelle proprie attività, in relazione alla questione di genere. Lo strumento di autovalutazione validato scientificamente consentirà alle associazioni sportive di comprendere il proprio impegno in termini di promozione di genere e di ricevere un marchio di qualità, livello oro, argento, bronzo e legno. Il lavoro da fare è lungo. Per fare un esempio, le statistiche europee parlano che solo il 30% degli allenatori è di genere femminile e la percentuale cala con l'aumentare del livello di competizione. Il centro giovanile ha l'obiettivo di creare informazione, di sensibilizzare le realtà, le altre associazioni sportive del territorio rispetto a questa tematica perché vorremmo che il cambiamento partisse proprio da noi, partisse dal basso. Organizzeremo per tutta la primavera e fino a settembre 2023 una serie di incontri teorici e pratici proprio per far conoscere lo strumento del progetto. Parleremo insieme di quelle che possono essere delle strategie funzionali per ottenere una pratica sportiva maggiormente inclusiva. Il progetto cercherà di coinvolgere 500 associazioni sportive in tutta Europa e risultati e buone pratiche saranno poi messe in mostra a settembre in un convegno organizzato alla UEFA Foundation for Children. Ed è tutto per questa edizione del nostro OTG, non ci sono per il momento altri aggiornamenti, l'informazione torna questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito, una buona giornata e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.